questo è un momento cruciale critico si sta sforzando oltre il limite potrebbe mollare in ogni momento ma sembra che ce la faccia no eppure l'avevamo avvertito era un'impresa rischiosa anzi addirittura pericolosa e la sua schiena ha detto stop ci è andato vicino ma ha fallito se avesse usato subito in diba avrebbe avuto successo carino il cactus